numero 5 il gigabyte g27 q è un monitor da gaming di fascia media che offre un'eccellente relazione qualità prezzo il display da 27 pollici con risoluzione q hd 1440 p e refresh rate elevato è l'ideale per chi gioca su pc il pannello ips offre immagini nitide e dettagliate con una densità di pixel di 109 ppi e una copertura del 95 per cento della gamma cromatica adobe rgb la resa dei neri non è eccellente specialmente quando si gioca al buio mentre il refresh rate di 170 hertz assicura una riproduzione fluida e naturale dei movimenti inoltre il tempo di risposta di 0,5 millisecondi e l'input lag sono molto bassi il monitor supporta il vrr e l'amd free sync premium anche se non ci sono certificazioni ufficiali di nvidia trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 4 è un monitor gaming di grande successo che offre ai giocatori un vantaggio competitivo questo display led ips da 27 pollici a tempi di risposta di un millisecondo di solito solo con i pannelli tn la qualità dell'immagine è eccellente con una fedeltà dei colori impressionante anche senza calibrazione la frequenza di aggiornamento da 144 hertz e le tecnologie amd free sync vvr e nvidia g sync rendono questo monitor una scelta eccellente per i giocatori il contrasto non è eccezionale ma nessuna scia di movimento veloce è visibile a causa della pulizia dell'immagine se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 3 il del ultra sharp u 2722 d è un ottimo monitor da 27 pollici adatto a grafici web designer e professionisti esteticamente il monitor si presenta con un design sottile e cornici quasi inesistenti per una visione più ampia la qualità visiva è eccellente grazie al pannello ips con risoluzione q hd da 2560 per 1440 pixel e al contrasto adatto all'utilizzo professionale il monitor copre il 100 per cento dello spazio srgb e rec 709 e il 95 per cento della gamma p3 la luminosità non è molto alta ma la base consente di regolare l'altezza del monitor fino a 15 centimetri con rotazioni laterali e inclinazioni verso alto e basso la dotazione di porte include una hdmi 1.4 due display port jack audio tre porte usb downstream 3 in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 2 questo è un monitor da gaming 27 pollici che offre un'eccellente combinazione di prestazioni e funzionalità il display 2k con frequenza di aggiornamento 165 hertz e tecnologia free sync fornisce tempi di risposta rapidi e un'esperienza di gioco fluida priva di schermature i colori sono brillanti e vividi mentre il gamut srgb al 99 per cento assicura definizione ottimale la visione a largo angolo offre la possibilità di condividere lo schermo con altri sul retro sono presenti una display port 1.2 e due porte hdmi 2.0 gli altoparlanti integrati consentono di inviare un segnale audio direttamente allo schermo trovi il link di questo articolo in descrizione numero 1 il bank pd 2725 u è un monitor di fascia professionale perfetto per designer fotografi video editor e animatori il display ips da 27 pollici offre una risoluzione 4k 3840 per 2160 pixel ed è progettato per offrire immagini dalla nitidezza eccellente grazie alla tecnologia ac color e alla copertura del 95 per cento dello spazio colore p3 i colori riprodotti sono molto realistici e fedeli in più il monitor arriva già ben calibrato e non sarà necessario effettuare una nuova calibrazione lot key pack di seconda generazione una sorta di controller esterno dotato di tre tasti funzione e di un tasto di comando radiale permette di modificare in modo rapido e veloce le impostazioni dello schermo puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione